ciao a tutti allora come sapete un po di tempo fa mi sono stati inviati i nuovi prodotti dei provenzali bio cioè della nuova linea alla rosa moscheta e se non avete visto il video ve lo lascio qui sopra e adesso li ho provati cioè li sto utilizzando da quando me li hanno inviati e quindi volevo un po parlarvene almeno per come mi sto trovando adesso allora partiamo subito dall'acqua micellare dei provenzali b ovviamente delicata questa strucca viso occhi e labbra con estratto appunto di rosa moscheta senza alcol e senza profumo per perli normali e miste allora io non avevo mai utilizzato l'acqua micellare anche perché non ne sento il bisogno sinceramente perché io non mi trucco cioè non utilizzo ombretti mascara matite mi metto praticamente solo il fondotinta e la cipria e rossetto quindi la prima volta che la che provava un acqua micellare e mi sono trovata bene però sicuramente io non la riacquisterò in futuro nessun tipo di acqua micellare perché appunto a me sinceramente non serve con questa però mi sono trovata molto bene perché è molto delicata non ha profumo e io la metto su una spugnetta oppure su un dischetto di cotone e toglie tutto ciò che c'è da togliere sul mio viso c'è il fondotinta la cipria e rossetto quindi strucca molto bene non lascia assolutamente nessuna sensazione appiccicaticcia anzi lascia la pelle veramente molto morbida quindi se voi utilizzate l'acqua micellare io questa ve la straconsiglio sicuramente e non so se vedrete l'inci perché è scritto piccolissimo però io ci provo sta pure colando ok no penso che non si veda e questo comunque sono 200 millilitri poi mi avevano inviato anche lo struccante occhi ma come vi ho già detto io non mi trucco gli occhi quindi non ne avevo assolutamente bisogno e allora l'ho inviato a martina del canale martilangolino magico anche se ancora non li arriva e io spero che gli arrivi presto insomma poi quindi se vorrete sapere com'è andate sul suo canale e sentirete cosa ne pensa lei poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo forse il prodotto che mi è piaciuto di più in assoluto è il gel viso detergente biologico sempre all'olio di rosa moscheta per pelli normali e miste che ha una doppia funzione cioè pulisce e purifica allora questo mi è piaciuto veramente tantissimo perché ha un profumo molto buono cioè almeno a me piace tanto è delicato però si sente il profumo di rosa e e fa schiuma o una cosa che a me piace molto perché avendo la pelle mista mi piace vedere diciamo la schiuma la stessa cosa diciamo che vale per i capelli avendo i capelli gratte e andando al grasso mi piace uno shampoo che fa la schiuma e e quindi questo mi piace tantissimo la consistenza è quella diciamo di un gel però è veramente liquidissimo e niente questo sicuramente è un prodotto che ricomprerò magari in futuro l'inch è inutile che ve lo faccio vedere perché è piccolo come quello di prima tanto comunque poi in seguito vi farò anche un post sul blog dove vi scriverò per bene le recensioni di ogni prodotto poi un prodotto che non mi è stato inviato ma che io già avevo è il tonico viso addolcente effetto rinfrescante sempre all'estratto di rosa moscheta questo è per tutte le pelli allora questo tonico come vedete manca poco diciamo per finirlo perché io ce l'ho da un sacco di tempo avevo iniziato ad utilizzarlo molto tempo fa solo che dopo aver usato questo prodotto mi erano usciti tutti dei brufoletti in faccia quindi avevo paura avevo avuto paura che la causa fosse stata proprio questo tonico invece lo sto riutilizzando già da un po' di tempo e la cosa non mi è più successa quindi penso che la colpa non era stata assolutamente del tonico e mi piace tantissimo perché ha un effetto molto rinfrescante infatti qui c'è proprio scritto rinfrescante e io penso che questo tonico sia molto adatto d'estate più che d'inverno però comunque anche d'inverno io mi sto trovando benissimo e anche di questo non ha profumo e niente quindi anche questo io mi sto trovando benissimo poi allora un prodotto che io sto utilizzando però sinceramente non ne vedo l'utilità cioè almeno su di me perché non riesco a vedere diciamo se fa effetto o no è il filler viso biologico riempitivo ruga all'olio di rosa moscheta sempre per pelli normali e miste allora questo qui praticamente va utilizzato nelle parti del viso dove abbiamo le rughe allora io praticamente lo sto utilizzando in questa parte qui del viso dove si formano queste fossette praticamente e magari un po' sulla fronte in mezzo diciamo non va utilizzato sul contorno occhi infatti qui dietro c'è proprio scritto che è da utilizzare sulle parti del viso dove ci sono le rughe tranne che sul contorno occhi per il contorno occhi infatti c'è un prodotto apposta che hanno creato che però purtroppo non mi è stato inviato quello vorrei provarlo anzi se voi l'avete provato fatemi sapere come vi siete trovati e niente quindi questo lo sto utilizzando la sera prima di mettere la mia crema la crema che sto utilizzando metto questo su questa parte qui appunto del viso e niente mi lascia la pelle molto compatta questo sì l'effetto mi piace perché la lascia anche molto liscia l'odore mi piace un po' meno però lo sentite lì per lì all'inizio dopo un po' non sentite assolutamente più niente quindi non è un problema per me e poi un altro prodotto che non mi è piaciuto assolutamente è questo burro cacao questo stick labbra biologico effetto gloss lucida labbra naturale allora questo burro cacao io ci tenevo tantissimo perché ho letto effetto gloss e invece niente non mi piace per niente ve lo faccio vedere si gira qui sopra mi lascia così è rosa l'odore è brutto però cioè è brutto però sinceramente niente di che non è però diciamo un odore che preferisco ma la cosa peggiore è che è molto duro e che quindi quando voi l'andate a stendere sulle labbra fate veramente fatica e non l'idrata per nulla quindi io praticamente l'ho usato due o tre volte proprio per provarlo per vedere se la cosa migliorava ma assolutamente no e quindi l'ho messo da parte per ora e proverò a riutilizzarlo magari quest'estate magari col calo o col caldo se si scioglie un po' non lo so vedremo per ora assolutamente non è il burro cacao che fa per me perché io ho le labbra secchissime poi un altro prodotto che mi sta piacendo molto è lo scrub viso biologico esfoliante sempre per pelli normali e miste e mi sta piacendo molto perché è molto delicato però allo stesso tempo purifica molto bene la pelle perlomeno la mia ha dei microgranuli che voi non vedete cioè non vedete neanche cioè se ve lo faccio vedere così non penso a bene non vedete niente però questi microgranuli sono tanti e quindi vi consentono di fare un bel massaggio sulla pelle ma allo stesso tempo non andate diciamo ad aggredirla e quindi io mi sto trovando benissimo anche con questo adesso non riesco più a chiudere ok mi sto trovando benissimo purtroppo l'inci non ve li posso far vedere perché sono tutti piccolissimi e vabbè niente poi l'ultimo prodotto è la maschera viso biologica purificante con argilla verde all'olio di rosa muschetta per pelli normali e miste allora questa maschera mi piace tantissimo però soprattutto la prima volta che l'ho utilizzata nei primi diciamo due minuti di applicazione mi bruciavo un pochettino e questa cosa mi aveva dato un po' fastidio perché una maschera che mi brucia io avendo avuto una brutta esperienza con un altro prodotto di cui vi devo ancora parlare ho avuto diciamo un po' paura che mi rimanesse tutto il viso in fiamme però ho resistito diciamo ho visto che dopo quei due minuti il bruciore è completamente scomparso e quindi l'ho tenuta per 10 minuti qui c'è scritto che va tenuta per 5-10 minuti dopo che sono andata a rimuoverla con una spugnetta la mia pelle era fantastica era super morbida super vellutata e quindi diciamo questa maschera mi piace tantissimo l'unico problema è appunto questa cosa che nei primi minuti di applicazione mi brucia un po' la seconda volta che l'ho utilizzata questa sensazione sinceramente non l'ho più sentita molto la terza volta invece è ricomparsa quindi adesso non lo so non lo so però comunque è una sensazione che sparisce abbastanza subito dura all'incirca due minuti e dopo comunque quando l'ho andata a rimuovere la pelle non è che è arrossata o bruciata come mi è successo con un'altra maschera la pelle è assolutamente normale voi sciacquate il viso e lo sentite veramente morbidissimo infatti qui c'è scritto per una pelle pulita e morbida sì donando una piacevole sensazione di vellutato benessere altra cosa questa maschera assolutamente non tira la pelle non si secca quindi secondo me è un'ottima maschera e quindi diciamo che mi piace nel complesso mi piace quindi niente questi sono tutti i prodotti che mi sono stati inviati appunto tranne il tonico che già avevo e ah in passato io ho utilizzato anche la crema viso idratante quella con il tappo blu se non ricordo male anche quella mi era piaciuta tantissimo mi lasciava la pelle veramente molto liscia non me la ingrassava assolutamente e quindi quella è una crema che sicuramente prima o poi ricomprerò anche perché costava molto poco e avevo provato anche l'altro l'altro detergente adesso non ricordo come si chiama però avevo provato anche quell'altro e anche con quello mi ero trovata benissimo mi era piaciuto tantissimo quindi niente fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti come vi siete trovati voi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao